grazie ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video ora tocca a voi arianna e ma ok andiamo a provare questo questa cosa vedere questa cosa qua soprattutto una cosa stupenda che vi farò vedere ora e sto parlando di questo questo qua è una un unboxing dove andremo a vedere questo gioco di società della funko in collaborazione con warner bros e wizard world e si chiama funko vers ce ne sono vari noi abbiamo voluto quello di harry potter ed è arrivato e vi facciamo vedere intanto la scatola dati vi fa vedere i due personaggi con la grafica però la scatola e la scritta che ci sono sono tutte fatte in quella quella plastica pellicola sapete quella che quando la passate è un po lucida quella lucida ecco più che pellicola lucida sopra troviamo la scritta vedete che lucida funko fanco e poi qua troviamo i due che ci sono dentro che sono drago malfoid e ron weasler e qua a fianco troviamo questo e poi dietro troviamo cosa c'è all'interno ma non vi spoilerò molto e andiamo subitissimo ad aprirla quattro angoli per aprire tutto i quattro angoli sono chiusi per cui due tre e sotto quattro poi giratela e volato adesso lo raccogliamo e vediamo all'interno cosa c'è ok allora intanto vi lascio questa così così vedete che cos'è allora facciamo l'inverso che forse si vede meglio sì allora vediamo allora all'interno abbiamo questi due personaggi uno è ron weasler si vede proprio perché i capelli rossi e l'altro è drago malfoid drago malfoid si capisce dei capelli che ha gialli perché è drago malfoid poi abbiamo all'interno queste schedine di cartone fatte i dadi guardate che belli da di dadi sono fatti bene e anche le pietre come c'erano e o belle le pietre non voglio fare tutto abbiamo anche i piedistalli vediamo con i piedistalli abbiamo questi li posso aprire perché i funko sono sempre belli da la scopa che deve stare a deve stare a ron ok ecco le basi che servono le basi adesso vi faccio vedere allora le basi dovete mettere a lui questa non sbaglio a lui voglio capirci bene no mi sa che non a lui questa forse a lui questa no sono tutte e due un po' ron così e questa a ron e a drago malfoid e gli abbiamo già già la scopa va a lui infatti dovrebbe andare per così se non sbaglio o dall'altro senso adesso ci guardo voglio vederci sì giusto come stavo mettendo la vedete c'ha il manico dal manico gliela infilate dentro al buco che ha fatto e la mettete così guardate che belli oggi faccio cadere proprio tutto ok e ok recuperato anche questo 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 poi vediamo se c'è il tabellone il tabellone dovrebbe essere sotto si un bellissimo bellissimo tabellone adesso vi faccio vedere tanto dopo rimetteremo tutto come si deve allora andiamo a vedere allora intanto le regole guardate che bella avete un manuale con le regole c'è anche un'altra versione infatti qua vi fa vedere che c'è un'altra versione qua sotto e tutto quello che c'è all'interno della scatola ma andiamo a vedere tanto ad aprire questa qua com'è cerco di fare il più attenzione possibile ok e andiamo ad aprire il tabellone così vedete com'è il tabellone ah bellissima questa cosa qua abbiamo doppio tabellone doppio tabellone ad alette facile da richiudere poi allora abbiamo il primo tabellone che è così guardate così fatto e il secondo tabellone è fatto così adesso come solito mi cade la scatola perché è molto grande come cosa e così questo sopra abbiamo anche la macchina e niente questo qua è il tabellone ritiro sul oggi la scatola di chiusura ok e poi abbiamo all'interno abbiamo queste che sono le varie schedine non voglio tirarle fuori tutte per e basta questo qua è il gioco funko verse che abbiamo visto questo qua di harry potter che ce n'è un'altra versione quadrata più grande questa qua è quella più piccola e poi abbiamo visto questo qua di harry potter che ce n'è un'altra versione quadrata più grande portatile molto per questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao